ciao a tutti bentornati il volume è un po altino vero? forse dobbiamo. però sentiamo noi lo sentiamo più basso adesso provvediamo questo è warhammer water virus si ci stiamo assorbendo assorbendo assorbisciamo allora questo è un gioco pvp devo scegliermi l'eroe scusate se non mi scelgo l'eroe scelgo l'eroe scelgo l'eroe scelgo l'eroe scelgo l'eroe lei ok questa è la versione free to play di del prodotto warhammer online qualche video già l'abbiamo fatto sì credo io come al solito mi hanno invitato già dai primi video ah guarda hanno iniziato un nuovo scenario poi non ce l'ho mai stato andiamo a picchiare qualcuno così a caso nuovissimo hanno cambiato anche l'interfaccia è un po' più semplice rispetto al total ancora più da incoglioniti però beh è sostanzialmente è più carino allora no se mi piace il pvp ci dovete giocare cioè non c'è un altro gioco più buon pvp di questo qua cioè hanno levato a warhammer questo che a me non piace? sì sì hanno levato a warhammer tutte le stronzate ecco io non scappo io voglio un po' una vecchia pausa hanno levato a warhammer tutte le che dicevo io cerco di praticamente giocare una cosa che non è facile sì hanno levato a warhammer tutte le stronzate ah ecco se lo mostro viva hanno levato a warhammer tutte le stronzate dell'ex lasciando in fondo quello che si faceva alla fine gli scenari e l'owning di scenario quindi e in più ci giocate gratis che non mi sembra non è da sottovalutare assolutamente non è da sottovalutare cerco di targetizzare qualcuno mi metto da dietro un po' lontano io comunque anche gratis giocherei guarda io gratis sì non è brutto io invito Andac e compagni intanto mi sa che non mi sento loro mi sa i miei video non l'ho mai visti pure no? non ne ho idea comunque loro che cercano sempre un gioco pvp e adesso finiscono un gioco pvp tipo SWATOS potrebbero venire qui non pagare o unano tutti quelli che vogliono quando vogliono perché lo vogliono perché il gioco sostanzialmente è questo non sostanzialmente è proprio così lo scopo è esattamente quello questo è il blu è tua vero? sì io sono il blu io faccio il blu tu sei i rossi allora qui abbiamo già spiegato per quelli che l'hanno visto avete una serie di spell proprio ridotti all'osso tutte uguali l'armor tutto uguale ovviamente poi procedendo con i livelli avrete alcuni abilità bim bum cazzi e mazzi però non ti vuoi cambiare niente? no c'è un item shop per compassi delle robine che non l'ho mai guardato quindi questo mi posso ma è online o ci si può accedere da qua? in che senso? nel senso da qui ci puoi accedere direttamente? dallo schermo prima quello che hai visto è finita così vi faccio vedere anche ok io come mi sono classificato ho fatto 6 punti però ho fatto 725 damage vabbè ma sono intanto credo a partita iniziata ah beh hanno vinto i verdi hanno vinto i verdi e così vi faccio vedere ah i bonus guarda sembra quella sotto machine wow vabbè prendo queste cose viva allora questo diciamo è il front voi promette play now se non siete in una warband che sta tipo gilda ah ma questo però non è tradotto no ah parzialmente è tradotto credo che posso usare quello perché il gioco in origine uscì anche in italiano con tanto riservi italiani gothor riservi italiani quindi ecco qui adesso siamo c'è la warband che è una warband che è una specie di gilda la lista dei friend lo store in cui non sono mai stato ecco vedete qui potete comprare delle robe ah puoi comprare gli eroi si eroi assolutamente nulla di particolare niente armi comprate gli eroi gli skin credo che sia tipo dei costumi ripartiti via subito facciamo vedere un paio di scenari questo è un'arena qui lì in basso c'è il caricamento abbastanza semplice tutto il gioco è semplice lineare fast si una partita è via si si ah qui posso scegliere scegli il tuo eroe lei eroe no sono i rossi arancioni che mi ha avventurato come al mio solito più o meno però ci sei andato vicino dai pensa beccavi il verde arancione ho anche il tatsu il verde l'ho disperato mi dovevi indicare tu se dovevi usare la mappa scegliere da 15 minuti quindi se ci avete un quarto d'ora caricate vi fate le vostre visioni qualcuno mi ha spasso la pizza sarà vanilla probabilmente allora muori 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 no 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 non è proprio per me ha fatto minimamente già mi sto senti male tra le altre cose e dai come ti fai senti male questo io sto a morire perché nessuno mi supporta sei morto anzi morto questi spostamenti così veloci sono indispensabili appunto io ti ripeto sono estremamente nobs in queste cose ripeto tu pensa già non mi piace per giocare dovrei anche soffrire in una maniera sconvolgente questo ho proprio fatto il punteggio senza voglia di libertà qualcuno ti picchia da die da que ecco questa è verde per esempio stai per morire per schettare perché questo è il triplo della vita di te e non è da sola è morto che figura di me vai un altro personaggio per farvi vedere allora dopo quali ci stiamo figura di merda più figura di merda meno no il ring e support focus ah questo un po' gay dai l'arsher ci sta è un tuo classico tra parentesi rapid fire ho visto l'occhio ma si e infatti quanto stavo a dire inquietante questo occhio che ti guarda ma tu stai picchiando a casa no stai picchiando a questo tipo laf cazzi e mazzi qua laf satu o laf satu non lo so insomma metà della vita tre quarti decimo morto quindi hai uccisi due al momento è stato ucciso quanto corri gay però mamma mia io ho capito voglia si tensionare ah wow tra 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 ripetizione fortissimo infatti ho fatto un altro poi cacchio di roba oh in compenso questo che è beh sai al terzo mostriciattolo che ammazzi poi ti tanano tanah tanah e qua non so come si rigenerà la vita sinceramente quindi fai ccp rock un ccp rock mi tengo un po' lontano sei un ccp rock non ti puoi tenere troppo lontano o troppo vicino amico mio eh ccp rock è una sorta di di nascondino guardie e ladri si è bello ridotto così credo che i deb del gioco siano felicissimi gli hai demolito il gioco dicendo che nascondino e guardie e ladri no si più o meno eh no di nuovo perché con me io sono buono non sono della stessa opinione i tuoi avversari proprio no eh vabbè lo riprendiamo? si ci hai messo più tempo a morire quindi da fai viveka va ammazzato ma lo cerchiamo va gli arresti tu il favore va eccolo qua viveka muori 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 che maledetto va lontanissimo troppo lontano per te è morto ma non era quello che ti ha ucciso a te si si è morto è sparito è un po' scomodo yeah guarda è abbastanza innaturale sto tiro effettivamente ma a confondo regolas ti fa le vitte voglio dire si appunto è un po' innaturale abbiamo finito il stampo no è tipo un laguolo c'è quello è una roba che puoi fare solo con la cerbottana è la cotina vabbè più in italiano ho capito eh vedi sottili da cerbottana se ti preparo un discreto numero di cartucce però un blu un blu un verde sei morto mi scuardo sto giro beh ma scusa un healer da ste parti non esiste no non ce l'avete ho visto io sono eh mi hanno inseguito perché pare posso fai o healer volendo sei capace beh io non so capace per tante in compenso siamo a fare di tutti i personaggi beh se è un video allora no bello ti stai a parlare ok questa è un'altra cosa che non ho mai fatto vedere che cosa la chat in gioco no quindi alla fine ti ammazzano ti ammazzano ti ammazzano sono un frate di sigma wow mi sono emozionata si sente è vero si è emozionata yeah questo picchia mentre picchi guarisci quelli attorno a te buono e ce n'è un altro di healer o solo questo e ho visto solo questo poi gli altri c'è solo il pretazzo e te stesso pure curi pure tu ti curi si si curi tu e pure tu non te buono senti che vocine ridicolissime si i più sono le cure i meno sono i danni come qualsiasi altro gioco oh spiegavo vai vai eh sei morto pure col 3 però se c'è un altro tipo di click skirmisher no beh torniamo a fa questa è quella di tac combate lo nostro hai personaggi di bomba si si legolas deno artri qua c'è erbottana io vi sento di consigliarvelo se se vi piace il pvp e vi illudite di trovarlo nei titoli mainstream scordatevelo ecco se andassi free to play sai che vorrei provare duck fall devo informare se hai ancora pay informati secondo me google sa dove trovare una risposta secondo me google sa dove trovare una risposta a questa tua domanda mi fanno schiattare da ridere le vocine che danno i personaggi però finito abbiamo vinto no no hanno vinto sempre i verdi ho capito sempre quanti danni ho fatti ho fatti voi siete arrivati i secondi su terzi è un buon posto l'avevo buttato fuori spin vabbè di nuovo no vi salutiamo qui si grazie ciao a tutti ciao ciao